Stiamo facendo riparare al volo il supporto della marmitta, siamo stati fortunati, non so cosa fanno qua, riparano o costruiscono qualcosa. Eccoci arrivati in cima al sentiero del glaciar Martial, bellissimo, un po' duro per noi però. Doveva succedere, sta per piovere, anzi sta piovendo, quindi qui non si sa mai, potrebbe anche mettersi a nevitare da un momento all'altro, meglio avanzare un po' con decisione verso casa. Dall'altra parte del canale di Beagle vediamo Porto Williams. E adesso stendiamo i panni, purtroppo non li stendiamo fuori ma dentro. Andiamo a vedere il relitto della nave Desdemona che è proprio qua davanti a noi, abbiamo fatto questo pezzo di strada per raggiungerlo e ora vediamo cosa ci aspetta. Per raggiungere la Desdemona c'è qualche passaggio un po' stretto e tormentato. E c'è anche una tempesta di sabbia.